. Trono Over, lite furibonda tra Tina e Gemma, il gesto shock . Il 14 febbraio si è registrata una nuova puntata del Trono Over dove le due donne sono quasi arrivate alle mani. Maurizio Costanzo dice la sua. Il 14 febbraio si è registrata una nuova puntata del Trono Over. . Le due protagoniste assolute della versione senior del dating show di Maria De Filippi sono senza dubbio Tina e Gemma e ultimamente tra le due i toni sono molto più accesi che in passato. . Nelle scorse puntate, si sono spesso stuzzicate e insultate, rivolgendosi epiteti non proprio educati. Quanto accaduto nella registrazione più recente, però, ha oltrepassato, a detta di molti, il limite. Tina arriva quasi alle mani con Gemma. . In merito alla registrazione, sono trapelate informazioni da coloro che erano nel pubblico e a quanto pare le due donne hanno litigato furiosamente. . Le due si sono offese e stuzzicate al punto di arrivare quasi alle mani, tuttavia un gesto, video, da parte di Tina contro Gemma ha fatto scatenare il pubblico. . Nello scontro verbale la Cipollari non ha voluto più saperne e, in preda alla rabbia, ha preso la sua bottiglietta dacqua e ha versato il contenuto sulla testa della Galgani. . Un gesto piuttosto umiliante che farebbe certo molto discutere, qualora la produzione decidesse di mandarlo in onda. Sì, perché Uomini e Donne è un programma registrato e in passato è capitato che venissero tagliati dei pezzi ritenuti troppo forti per la fascia oraria di messa in onda. . . La notizia ha comunque fatto il giro del web e ha scatenato non poche polemiche. . In molti pensavano che le due donne fossero troppo violente luna nei confronti dellaltra e questo episodio ha esasperato un targe di pubblico già piuttosto infastidito dal loro atteggiamento. Le parole di Maurizio Costanzo. Nei confronti delle due, è arrivato ad esprimersi anche cancelletto Maurizio Costanzo tramite la sua rubrica nel settimanale Nuovo TV. . Diversi lettori gli hanno fatto presente ciò che succede nel programma di Maria De Filippi e il giornalista non ha potuto video, quindi evitare di trattare l'argomento. Costanzo ha dichiarato che in televisione può capitare, a volte, che i toni si alzino, ma che non si deve mai arrivare a considerare lo studio come se fosse un ring. Ha continuato affermando di non essere molto contento dell'aria che tira Trattina e Gemma durante le puntate del Trono Over, specialmente perché sono due protagoniste molto seguite e, per questo, dovrebbero dare il buon esempio. . Il ragazzo di un miglioramento della situazione tra le due, ha concluso suggerendo ad entrambe di ridimensionarsi. Come finiranno le cose dunque? Non ci resta che aspettare per vedere, eventualmente, la puntata. .